Nello spazio VIP di Top Fuel XXL c'è un mito della televisione, un mito della musica e siamo felicissimi di ospitare quella che è la produttrice discografica per eccellenza, ma anche un personaggio super amato, Mara Maionchi. Buongiorno Mara, grazie per essere qui con noi. Ciao, buongiorno mamma, non solo tutta quella roba lì. Io mi sono messo in ginocchio prima quando mi hanno detto che da Radio Marconi l'avremmo rapita. Però insomma, sono un professionista che ha fatto un lavoro, alcune volte bene, alcune volte male, proprio devo dire che qui di miti non ce n'è, i miti sono solo alcuni che non andrei a citare, ma alcuni miti ci sono, ma non sono certamente... Ma ad esempio uno di quelli con cui ho lavorato, Battisti, è un mito. Certo, anche Mogol, voglio dire, non sono mica nessuno dei due, io ci ho solo lavorato. Però per noi, almeno, il modo di intendere la televisione che abbiamo noi qui, non la televisione locale, per cui ambienti diversi da quelli nazionali, è un piacere vedere gente che esprime quello che pensa. Questo mi fa piacere, questo mi sembra giusto, ma ci sono stati Blackwell, c'è stato in Italia Nanni Ricordi, Micocci, Meli, ci sono stati tutti questi signori che sono stati veramente dei miti della musica leggera. Non dimentichiamo Caterina Caselli. Voglio dire, io credo che di signori che hanno fatto molto bene questo mestiere, e che hanno dato onore e gloria alla canzone italiana, ce ne sono stati veramente tanti. Lei ha lavorato nelle case discografiche più grandi, la Fonit, la Ricordi. Tutte italiane. Tutte italiane. Quale rimpiangi di più? C'è qualcuno in cui tornerebbe a fare quel lavoro che ha fatto una volta? Beh, gli anni più divertenti sono stati sicuramente, forse per il periodo storico, per la situazione, per le persone, la numero uno, che era questa etichetta che poi faceva parte del gruppo RCA, che oggi è Sony, dove c'era Battisti e Mogolle, dove nasceva una nuova esperienza italiana. Quello è stato un anno particolare. E poi l'Aristo di Alfredo Rossi, che è stato un altro grande discografico, perché è stata la prima. E poi tutto il resto è stato lavoro. Lei, con l'esperienza di X-Factor... Mi dica è di lei? No, mi dica lei, mi dica tu. Mi dica tu. Grazie, è un piacere, grazie Mara. Con il lavoro di X-Factor, che comunque ti teneva impegnata per parecchi mesi durante l'anno, avevi un pochino smesso di fare il lavoro di... No, no, ho sempre fatto il discografico che io ritengo sia il mio lavoro principale. La televisione è nata proprio dal fatto che io abbia fatto il discografico, perché in questa X-Factor, nella trasmissione di Simon Cowell, loro cercavano un discografico. E un signore patara della Sony ha fatto il mio nome, perché è un personaggio un po' particolare, ho rompiscatole, sono sempre stata, e ho detto forse come rompiscatole è perfetta la Mayonky. Allora mi hanno fatto un provino insieme ad altri, e ho fatto il provino. E da lì è nata la televisione da una grande conoscenza, una notorietà importante di cui io sono grata, perché poi le persone che mi incontrano mi salutano con affetto, e questo anche per una signora di una certa età fa piacere. Benissimo. C'è un giovane molto promettente con il quale stai lavorando, giusto? Martino? Martino Corti, che è di Milano, è un ragazzo che ha fatto il Dams a Bologna, si interessa da sempre di musica, di teatro, di spettacolo, e sta lavorando con Sandro Mussida, che è il figlio di un mio ex artista, che è Mussida della PFM, è un grande chitarrista. Stanno lavorando, stanno facendo un genere particolare, quello che ama molto Martino e che ama anche Sandro, che è questo genere che è un po' mondiale, ma che secondo me rispecchierà poi i tempi che verranno. Ma con tutti quelli bravi che hai avuto modo di vedere, con quelli di lavorare a X Factor, e poi ne parleremo se vuoi ad Amici in futuro lavorerai, come hai fatto a volte? Magari hai visto qualcuno, hai sentito qualcuno che ti piaceva particolarmente, magari non ci potevi lavorare, c'è stato un qualche volta in cui ti sei venuta? Beh, voglio dire, a X Factor l'ho incontrato tanti, tra cui Tony Maiello, che abbiamo lavorato l'anno scorso, ha vinto Sanremo Giovani, stiamo ancora lavorando, Tony sta facendo le canzoni, che sono naturalmente sempre la cosa più difficile, perché nella canzone c'è molto, perché il modo di comunicarle è importante, ma anche quello che comunichi è importante. la novità, bisogna lavorare molto per arrivare a trovare un modo giusto per arrivare al pubblico a comunicare qualcosa che interessa e che sta nei tempi, per cui Tony sta molto lavorando, ma anche i Bastardi stanno lavorando, perché hanno fatto un primo disco, hanno fatto concerti, però ancora sempre il disco, che è la sintesi del loro pensiero artistico di quel momento. ci sono altri ragazzi, ci sono alcuni che non erano in X Factor, tutti gli artisti poi finiscono, sono pre-contratto alla Sony, e per cui io ho potuto lavorare con quelli che poi sono stati liberati da Sony. Ad Amici vado a fare questo serale, che sarà solamente un fatto di presenza, e poi mi auguro che se tutto va bene nel serale, di poter fare amici, di poter scegliere un artista da portare avanti secondo la mia convinzione che sia bravo, sia come gusto artistico. Vediamo che succederà. Mi sembra di capire che la scelta comunque è su Amici per il futuro. Ma io devo dire che ho fatto quattro anni a X Factor, mi sono trovata benissimo, mi sono divertita, ho fatto, credevo, credo e credevo che il mio percorso a X Factor sia finito. E trovo che Amici abbia delle possibilità e delle possibilità proprio come tipo di programma di farmi poter fare, di poter continuare a fare il mio lavoro di produttore discografico, questo è. Bene, questa è una trasmissione di motori, di auto, di passione per i motori. Magari Martino Corti ce lo mandi a fare un'intervista. Volentieri. Io devo dire che sono, non sono il massimo del motore, devo dirti che ho preso la patente e che non ero neanche più una ragazzina. E poi quando mi sono accorta che giravo solo a destra perché a sinistra mi comportava una difficoltà, ho deciso che forse era meglio prendere i dati. Cioè fammi capire, a sinistra non giravi? No, perché bisognava portarsi al centro della strada, poi girare, stare attenti. E ho capito che non tutti sono nati per guidare. Per cui ho deciso di mia spontanea volontà che era meglio togliersi dai piedi e non guidare. Per cui ho fatto una scelta, devo dire, secondo me è giusta. Però... l'epoca di tuoi 18 anni coincide più o meno con il momento in cui è nato un mito, la 500. Ah, fantasma. Fine, inizio anni 60, insomma, era un pochino... L'hai avuta? Che macchina hai avuto? Io non l'ho mai avuta, ma l'ha avuta mia sorella e quando, siccome mia sorella era un metro e ottanta, mio cognato un metro e ottantacinque, tre figlie e io, quando scendevamo tutti dalla 500... E tutti sulla 500? Devo dire, erano molto, molto... E tua sorella più anziana di te? Sì, più anziana di me, ma devo dire la 500. Io l'unica cosa che mi ricordo anche bene è quando sono andata a sposarmi e la mattina del 9 dicembre di 35 anni fa il salerno è venuto a prendermi con la 500. Colore? Arancione. Per cui... Ma neanche quella lì ti verrebbe voglia di avere adesso? Eh, ma io ho attaccato il chiodo come guidatore tanti anni fa. A zero, proprio per cui ti fai scalozzare e basta. Sono veramente una... E' come l'inglese. La guida e l'inglese sono per me due buchi neri nel mio cervello. Vabbè, ma l'Alberto Salerno adesso che macchina... Ma adesso ha una Volvo, però la 500... Lo dici un po' con sdegno, però, mi sembra di capire. No, no, una Volvo, una grande macchina. A prezzi? No, no, a prezzo, una macchina molto comoda, è un SUV, si viaggia bene, tutti i meriti del mondo. Devo dirti che la 500 è una macchina veramente eccezionale. Però ascoltami, una volta mi hai detto tu che andavate in giro praticamente i sei, no? Tre bimbi, più te e la sorella e il cognato. E ci si stava. Adesso per andare in giro in due o tre ci vuole lo sport utility da Volvo. E' cambiato tutto il mondo. No, ma secondo me invece in città sarebbe molto più... Anche perché non solo città, ma la 500 funziona anche nelle autostrade. Adesso che c'è 135 di limite, voglio dire, non ho capito perché... La 500 è una macchina fantastica. Anche la Panda, voglio dire, ci sono state delle macchine piccole che hanno veramente delle utili... Poi occupano meno spazio, devo dire. Io sono convinta che sia il futuro che sia della macchina piccola. C'è qualche macchina con la quale è arrivato a casa Alberto che veramente ti faceva schifo e magari gliel'hai anche detto, conoscendo la tua schiestenza. No, devo dirti che non c'è stata niente. Ma è difficile oggi trovare una macchina brutta. Ma neanche in passato niente. Non si è mai presentato con una roba che ha detto, ma com'è fatto a pigliare questa... O ce n'è una che avresti voluto e che non l'ha mai preso? Avete mai avuto di verbi sulle macchine? No, devo dirti di no. Secondo me, purtroppo, ammetto la mia debolezza e anche la mia poco maschimilità in questo settore. La macchina serve come trasporto. Per cui no. Poi ci sono, beh, non sono cretina, certe macchine. La Porsche, per esempio, è una macchina bellissima con una grande storia, con un motore rombante che veramente ti fa confondere anche un po' le idee se credi di essere su un destriero bianco che ti porterà... No, però, e tante macchine belle, ci sono macchine di tutti i generi. Anche la Rolls, che usa solo la regina Elisabetta, devo dire che l'unica macchina che ho invidiato sempre è la macchina della regina Elisabetta perché ci si entra in piedi. È vero, è vero, assolutamente comoda. è eccezionale. Ma nessuno dei tuoi artisti, quelli mitici, la Rannini, i Battisti, adesso dico, hai lavorato con la Vanoni agli inizi. Nessuno di questi ti ha mai portato in giro un qualcosa di particolare? No, devo dire che chi era un'ottima guidatrice era la Rannini. La Rannini guidava molto bene sia la macchina che la moto. È un'ottima guidatrice. Altre, Ornella, non so neanche se ha la patente. E altre... Altre... No, Tiziano guidava. Aveva una SUV, però... L'unica che mi ricordo come un'ottima guidatrice e forse anche per motivi familiari era la Gianna. Me la ricordo nel senso che quando facevo qualche viaggio con Gianna ero abbastanza tranquilla. Perché guidava bene e andava bene. Bene, sì. Andava bene, forte, ma molto sicura. Senti, le tue figlie, Giulia e Camilla, hanno preso da te nel senso che non guidano o guidano loro? No, guidano. Almeno loro. Su che macchine sono orientate? Hanno una Golf. Golf. Per cui, insomma, siamo tranquilli. Prodotto teutonico perfetto. Però, devo dirti che, insomma, guidano normalmente. Il Salerno comincia a perdere un po' di colpi. In che senso? Il Salerno... È perché si annoia un po' a guidare. Perché magari legge, dorme, cosa fa? No, sì, appunto, tende a distrarsi. Non è bello, eh? No, non è per niente bello. Infatti, io devo tenerlo sveglio con urla, gridi, stai attento, acqua minerale, fredda, destanza. Insomma, è una roba faticosissima che quando vedo il Frecce Rossa mi si apre il cuore. Ma solo nel nostro caso perché il Salerno mi si è un po' perso per la strada sulla guida. Va bene. Senti, allora, tanti in mocca al lupo e buona fortuna per amici e per Martino Corti che aspettiamo qui a una promessa. Volentieri, volentieri. Grazie a Mara Majonski. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie.